Il 4 aprile di 30 anni fa oltre 100.000 persone manifestarono a Comiso per dire no alla costruzione di una base militare che avrebbe dovuto ospitare 112 missili Croisa attestata nucleare. In occasione del trentennale si svolgerà a Vittoria un incontro con studenti, lavoratori, pensionati e la cittadinanza per riflettere sul pacifismo, sulla militarizzazione e sul percorso del movimento non violento. Per fare memoria di quegli anni, per proiettare verso il futuro guardando al Mediterraneo e alla pace alla rivoluzione araba. Ieri alla sala manderà un momento di confronto in vista di tale ricorrenza. Il progetto di ricordare la manifestazione che ci fu a Comiso il 4 aprile 1982 nasce da una proposta dell'Arci Sicilia che noi abbiamo voluto accogliere. Oggi si è svolta a Vittoria a Comiso un'assemblea con gli studenti e oggi abbiamo voluto portare qui a Vittoria queste tematiche che vanno dal pacifismo alla militarizzazione e al percorso del movimento non violento. L'importanza di ricordare Piola Torre con le sue azioni di pacifismo e con la sua petizione con la quale ha raccolto un milione di firme e va ricordata a 30 anni dalla sua morte. In tale occasione è stata sottolineata l'importanza del movimento Nomuos a difesa del territorio. Il movimento Nomuos vuole in ogni territorio organizzarsi per far capire ciò che sta succedendo a Niscemi, incontrata a Ulmo, dove dentro una riserva si sta impiantando una ground station, una sezione di terra satellitare di guerra. Ha senso oggi parlare di Comiso a 30 anni dalla marcia dei 100.000, solo se si parla anche di cosa che sta accadendo attualmente nei nostri territori. C'è un incompende pericolo e gli Stati Uniti d'America stanno impiantando questo grosso impianto a Niscemi a grosso impatto elettromagnetico. È una macchina di guerra, se ne parla poco il movimento Nomuos in ogni territorio vuole fare la sua parte.